salve a tutti i miei cinefili e benvenuti a questa velocissima video recensione di un film di cui mi avete chiesto sempre tanto nel corso del tempo perché è diretta da un regista a cui io voglio incredibilmente bene che stimo normalmente che è Sidney Lumet Sidney Lumet al quale voglio assolutamente il primo poi dedicare una monografia però siccome davvero i progetti in cantiere su questo canale sono tantissimi e le cose iniziate sono tantissime per non aspettare direi che il primo film l'esordio importante di Sidney Lumet alla regia dopo una gavetta televisiva niente affatto trascurabile ce lo ce lo ce lo in realtà spariamo adesso e quindi voglio parlarvi della parola ai giurati 12 angerman un film assolutamente imperdibile e di cui tantissimi hanno chiesto sempre molto 1957 un film bianco e nero con uno stratosferico e rifonda che in realtà nel film è anche produttore con un comparto di attori davvero di altissimo livello perché sebbene il film sia molto concentrato nello spazio nel tempo in un luogo ristretto e in un tempo limitato e quindi ci siano solamente un numero limitato di attori veramente sono tutti bravissimi quindi cerchiamo di capire che cos'è la parola ai giurati 1957 di Sidney Lumet dicevo esordio dopo una gavetta televisiva che non va niente affatto trascurata lo stesso soggetto del film lo stesso plot in realtà era stato già adattato per la televisione qualche anno prima del 57 quindi siamo già di fronte ad una seconda trasposizione questa volta per il grande schermo scritta da reginald rose prodotta da rifonda che poi ebbe a dichiarare che mai più avrebbe fatto il produttore non stento a crederlo vista la fatica lo stress che sicuramente poteva essere legato a un progetto così particolare e per in un certo qual modo semi indipendente con molti rischi da correre però il nostro Sidney Lumet si era fatto secondo me le ossa nella gavetta chiamiamola così televisiva perché se c'è una cosa che la televisione ha insegnato ad alcuni grandi registi del cinema non solo Lumet ma anche Peckinpah ma anche Don Siegel ma anche Frank Neimer tutti i registi spettacolari di cui io consiglio ogni singolo film e che prima o poi dovremo sviscerare a fondo uno per uno anzi Peckinpah già l'ho fatto trovate la monografia di Sam Peckinpah su questo canale e sapete conoscete se mi seguite sapete che quale ammirazione io nutra nei confronti Don Siegel e del suo cinema benissimo allora cosa sto cercando di dire sto cercando di dire che la gavetta televisiva è servita al nostro Sidney Lumet perché in televisione negli anni 50 si lavorava con incredibili con i ritmi con ritmi molto sostenuti si lavorava con con mezzi forse limitati se vogliamo si cercava in qualche modo di ottimizzare tutto quello che si aveva a disposizione e di cercare delle soluzioni sempre di grande efficacia che però fossero anche rapide da realizzare e soprattutto di economiche e insomma la parola dei giurati ha queste caratteristiche ha praticamente una sorta di ritmo in qualche modo sostenuto tensione che si dà da con il coltello attori che danno il massimo spazi esaltati al massimo uso della macchina da presa sapiente intelligente efficace mai 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 finalizzato alla semplice ricercatezza estetica o spettacolare quindi tutto è geometricamente quadrato tutto è asciutto fino all'essenziale il film dura praticamente 96 minuti si tratta di 96 minuti di pura tensione la storia credo che la conosciamo tutti è una delle più esportabili storie della storia del cinema perché di fatto il plot è stato poi riciclato e riadattato in tantissime versioni anche in remake se vogliamo uno di questi dei miei che è stato diretto addirittura da mister esorcista braccio della legge william fritkin e poi abbiamo avuto versioni anche in altri paesi perché praticamente l'intreccio è esportabile all'ennesima potenza in quanto in quanto praticamente tutto il film si svolge in una sala del tribunale dove i 12 giurati devono discutere se condannare quindi se considerare colpevole o non colpevole l'imputato in questione tutto qui praticamente il film ecco si concentra tutto attorno a questa discussione che è l'essenza della democrazia che è bello questo film che ci insegna ci ricorda ogni volta su che cosa si basa lo stato di diritto e su quanto sia necessario però per ogni individuo vivere in modo etico e responsabile questo grande privilegio cioè della democrazia perché se invece ci si volta dall'altra parte se invece si vive questo sistema democratico con nonchalanzo con leggerezza con con superficialità è ovvio che si commetteranno ingiustizie come se ci trovassimo di fronte ad una dittatura o ad uno stato arbitrario e violento quindi comunque non basta la legge il garantismo il tribunale il processo la procedura a non solo sufficienti a mantenere alto il tasso di democrazia e di giustizia occorre ovviamente che ogni persona poi viva sulla sua pelle nelle sue ossa nella sua nel suo senso di responsabilità nella sua coscienza questi principi e li trasformi in pratiche di vita se non fa se non c'è questo passaggio è ovvio che anche la migliore delle costituzioni anche il migliore anche il migliore anche la migliore delle teorie di stato si sgretola e diventa qualcos'altro non certo la migliore delle teorie diventa la peggiore delle pratiche in un certo qual modo benissimo si è fatta la gavetta in televisione arriva con questo capolavoro perché non so come altro definirlo la parola giurati se non un capolavoro di geometria di regia di interpretazioni di fotografia da punto di vista tecnico il film è magistrale ancora oggi meriterebbe di essere analizzato shot by shot scena per scena inquadratura per inquadratura taglio di montaggio per taglio di montaggio tutto è essenziale tutto è necessario non solamente per stabilire quello che sembra apparentemente il plot fondamentale della vicenda ovvero se il nostro colpevole il nostro ragazzino 18enne accusato di un misilio di primo grado che rischia la pena di morte nello stato di new york nel processo che si sta svolgendo è innocente o è il colpevole o non colpevole non è questo noi dobbiamo anche nel corso del film nel corso di questi 96 seratissimi minuti conoscere i nostri 12 giurati che non avranno mai un nome mentre sono nella stanza delle decisioni non si conoscono per nome e solamente il giurato numero 8 il giurato numero 9 interpretati da Henry Fonda e Joseph Sweeney alla fine del film fuori dal tribunale si presenteranno si daranno la mano si diranno i loro nomi eccezione fatta per loro noi non conosciamo il nome dei 12 giurati non conosciamo niente delle loro vite impareremo a conoscere durante la loro discussione perché la loro discussione si basa su dei dialoghi e dei confronti e dei dibattiti che sono anche espressione della loro personalità e quindi noi in realtà riusciamo a conoscere anche loro cosa pensano se sono reazionari conservatori progressisti ma soprattutto se sono sensibili fragili sicuri di se spavalti ipocriti perbenisti riusciamo a capire tutto se sono contraddittori se si contraddigono se invece sono pronti ad ammettere l'errore sono orgogliosi non sono orgogliosi cioè capiamo veramente 12 sfere emotive in modo naturale senza forzature senza che il film ci spiattelli con di tascalismo becero quello che in realtà è bellissimo scrutare e capire scena dopo scena battuta dopo battuta postura dopo postura atteggiamento dopo atteggiamento quindi il film davvero da questo punto di vista è magistrale e ancora oggi rivedendolo non può che non si può che rimanere estasiati perché tutto funziona alla perfezione è uno di quei classici film in cui niente è superfluo niente è fuori tono niente è fuori posto l'armonia di domina sovrana in questo splendido capolavoro e cerchiamo di capire però sid nel lume come lavora innanzitutto parto dalla scena iniziale forse un po trascurati minuti iniziali sono sempre un po trascurati di questo film e invece contengono già una chiave di lettura importantissima che non mi va di tacere sto parlando della carrerata iniziale che tutti quanti vi ricorderete noi dobbiamo quando inizia il film dobbiamo ancora entrare nell'aula di tribunale in cui si sta si sta dibattendo la causa che ci interessa ma mentre la macchina da presa fa il suo percorso sentiamo vediamo quasi non ce ne accorgiamo e certamente non avranno un peso drammaturgico e narrativo nelle scene seguenti vediamo che un altro processo è terminato in un'altra aula c'è stata un'altra sentenza c'è stato un altro un altro dibattimento questo che significa perché è così importante questo icipit perché in realtà quello a cui noi assisteremo nel corso del film non è altro che un ingranaggio della democrazia non è altro che l'ennesimo processo è uno tra i tanti cioè la democrazia lo stato di diritto funzionano così la giustizia è sempre in movimento i tribunali sono sempre in movimento di processi ce ne sono tanti cioè non dobbiamo commettere l'errore di considerare un caso emblematico di un sistema un caso è semplicemente una goccia nell'oceano però anche quella goccia merita il massimo se noi in una singola goccia mettiamo il massimo a cui siamo chiamati con il nostro senso di responsabilità automaticamente la democrazia funziona se invece pensiamo che si tratta solo di un processo solo di una goccia solo di un imputato solo di un ragazzo ecco che il sistema prima o poi si incepperà quindi questa scena iniziale che sembra così banale e scontata in realtà è necessaria per capire cosa stiamo vedendo stiamo vedendo l'anello di una ruota di un ingranaggio stiamo vedendo un pezzetto di un sistema ma per funzionare tutte tutti i vari marchi ingegni devono essere ben oliati ovvero tutte le persone tutti gli esseri umani tutti i cittadini devono sentirsi protagonisti di una vicenda di una vicenda e di un processo decisionale essenziale e quindi questo è importante allora poi c'è l'altro l'altro carrello ve lo ricordate con la panoramica sui vari giurati con il giudice che dice il processo il dibattimento è finito adesso dovete ritirarvi dice alla giuria per decidere se il nostro imputato è innocento colpevole il primo piano sull'imputato che prima abbiamo visto di spalle mi sembra poi abbiamo anche il primo piano prima che la giuria vada da un'altra parte quello sarà l'unico momento in cui vediamo negli occhi il nostro 18enne accusato di omicidio per aver accoltellato il proprio genitore lui che è un maestro del coltello quindi lo vediamo così questo ragazzo poi non lo vedremo più non sappiamo come si chiama non conosciamo in quel momento tutta la sua vicenda quindi il suo sguardo e i suoi occhi da cane bastonato ci devono impiedosire ancora no perché non sappiamo nulla di lui lo scopriremo attraverso le parole di 12 persone chiamate a decidere della vita della sorte del destino della morte di questo personaggio di questo imputato di questo 18enne di questo ragazzo quindi ancora non sappiamo niente di lui ci spostiamo nella camera del della giuria nella stanza della giuria che da un momento è isolata e staremo con lei saremo con la giuria saremo con questi 12 sconosciuti che dovranno dialogare e in quel dialogo c'è l'essenza della democrazia sembra facile c'è chi vuole andare addirittura a una partita di baseball e per nulla al mondo vuole perdersela peraltro faccio notare che il film poi alla fine avrà anche una una pioggia purificatrice quindi in mezzo a tanto realismo ci sono delle allegorie delle metafore che il buon Sidney Lumet davvero il regista scaltro inserisce quasi non noi non ce ne accorgiamo dicevo i nostri 12 imputati sembrano per lo più convinti che si possa fare in fretta che si possa addirittura trovare il tempo di andare alla partita votazione 11 sono favorevoli alla colpevolezza si esprimono per la colpevolezza guilty non si discute il nostro imputato è colpevole il girato numero 1 il numero 2 il numero 3 il numero 4 il numero 5 il numero 6 il numero 7 il numero 9 il numero 10 il numero 11 il numero 12 tutti quanti tranne uno che alza la mano in quanto si tratta di al sollevare il ragionevole dubbio ed è questa l'essenza del film questa l'essenza della democrazia questa l'essenza dello stato di diritto ognuno di noi è innocente fino a prova contraria ma la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio se sussisto ragionevole dubbio siamo tutelati siamo protetti il processo si rifà si cambiano gli avvocati si cambiano i giurati non abbiamo capito bene attenzione c'è qualcosa che non torna non si può giocare con le vite umane grande grande messaggio grande essenza del film grande riflessione politica che assolutamente in questo film è uno dei cardini fondamentali su cui si basa l'intera vicenda il nostro giurato che è in disaccorto è il giurato numero 8 cioè è rifonda mamma mia quanto è bravo è rifonda in questo film davvero regala una performance l'ennesima grandissima sontuosa performance io ho una sorta di debolezza nei confronti di rifonda quando vedo che in un film c'è rifonda difficilmente riesco a dire che il film è imperfetto no è rifonda garantisce al film sempre una grandissima impeccabilità e il nostro è rifonda dice io non sono convinto che è così non è tutto facile vediamo un po quali sono gli elementi che inchiuderebbero il nostro imputato e che nel corso del film sono a uno a uno smantellati ci sono due testimoni il vicino del piano di sotto che però è un vecchio zoppo forse dice di aver visto ma forse non ha visto c'è la vicina del palazzo di fronte che ha la sua finestra della camera da letto proprio alla stessa altezza della camera dove si sarebbe consumato il delitto e dice di aver visto il ragazzo che ha coltellato il padre dall'alto questo è già un dettaglio che non torna perché non trovava sonno e si rigirava nel letto e aveva quindi stava per addormentarsi e soprattutto tra le due finestre c'è anche una metropolitana il treno che passa e quindi avrebbe visto quello che ha visto attraverso i finestrini dei vagoni della metropolitana certamente i vagoni avevano la luce spenta e quindi è possibile che abbia visto però poi si scoprirà che c'è qualcosa che non va poi c'è il coltello il coltello che sembra un unicum che sembra un pezzo raro il coltello a serramanico che è l'arma del delitto ma forse non è un unicum e la rifonda è la prima cosa che dimostra in realtà ecco perché ha un ragionevole dubbio perché tutti quanti hanno pensato e hanno sempre sostenuto durante il dibattimento che fosse un coltello un coltello rarissimo l'imputato dice di averlo perso in realtà è un coltello molto facilmente reperibile nel quartiere dove è stato consumato il delitto e quindi c'è la famosa scena che meraviglia quanto il nostro Sidney Lumet ci fa vedere i due coltelli piantati sul tavolo e quindi in modo icastico ed efficace apprendiamo che questi coltelli che questo coltello non è così raro come sembrerebbe e questi scolpi di genio del film ce ne sono a bizzeffe questi dettagli il nostro imputato che c'è gli occhiali che si ritoglie che c'è gli occhiali poi saranno determinanti perché sarà lui a doverci vedere chiaro e ad ammettere che cosa significa portare gli occhiali il modo di vestire dei vari personaggi è fondamentale per capire che è la loro professione se sono dei professionisti se sono dei, insomma, come posso dire, degli artigiani a quale ceto sociale appartengono se il loro vestito in realtà nasconde il quartiere di provenienza che non è proprio eccelso sto pensando soprattutto al giurato numero 7 cioè Jack Warden mi sembra che sia lui quello che viene dal quartiere povero, correggetemi se sbaglio no, non è lui che viene dal giurato, ho sbagliato, ho detto una subitaggine quello che viene dal quartiere povero è il giurato numero 5 cioè Jakob, Jakim, Jack, Klugman mi sembra che è lui che ha vestito bene però si tratta di un vestito chiaramente indossato per mascherare la propria provenienza come la testimone con gli occhiali per vezzo, per apparenza e il film riflette molto su come gli uomini e sulla maschera che gli uomini, gli esseri umani vogliono indossare quando si trovano in società, quando si trovano in mezzo agli altri per vezzo non indossava gli occhiali fuori casa quando si trovava in condizioni di essere sotto i riflettori in certo qual modo però a noi che portiamo gli occhiali come voi sapete rimangono questi segni rossi sul naso colpa di questi attrezzi qui che si chiamano naselli e che permettono all'occhiale di essere retto sul nostro naso e quindi noi che portiamo gli occhiali anche quando ci ritogliamo si capisce perfettamente che portiamo gli occhiali il film vive di questi dettagli vive di queste precisioni di questi piccoli elementi che sembrano insignificanti ma che invece sono fondamentali e dirimenti per decidere se un imputato è innocente o colpevole benissimo poi ci sono ovviamente come prove il nostro imputato ha detto di essere andato al cinema e di trovarsi quindi lì quando è stato commesso il delitto però non ricorda il film o meglio non lo ricordava quando è stato interrogato dalla polizia davanti al padre morto e quindi ci sono questi dettagli che sembrano tutti quanti lineari però il nostro è rifonda cioè il giurato numero 8 e avanza un'obiezione perché innanzitutto il coltello lui l'ha trovato facilmente nel quartiere da un semplice ricattiere quindi non è vero che è stato così raro e quindi ha dei dubbi perché l'imputato è stato difeso da un avvocato che sembrava alle prime armi che non ha affondato bene che non ha fatto bene il suo lavoro che è stato un po' titubante che è stato un po' insicuro di sé perché è un avvocato d'ufficio e quindi ecco la giuria dovrebbe servire a garantire i diritti di un imputato quando non può permettersi un avvocato invece rampante e aggressivo di conseguenza c'è il ragionevole dubbio e quando è rifonda dopo la prima votazione manifesta queste obiezioni queste riflessioni pieni di indecisione lui non è convinto che sia innocente solo che non è convinto che sia colpevole e questo è il punto non è convinto che sia colpevole subito convince il primo imputato cioè il primo giurato cioè il giurato numero 9 ovvero Joseph Sweeney interpretato l'attore si chiama Joseph Sweeney che è un vecchio che è stato al bagno quindi è uno che si prende che prende che si prende il tempo per fare le cose infatti è l'ultimo a sedersi è l'ultimo ad arrivare perché stava al bagno lo potevano chiamare lui si stava facendo le cose sue insomma con più calma con più tranquillità no che meraviglia dai gesti dalle azioni dai tentennamenti capiamo la psicologia di questi personaggi capiamo il loro carattere capiamo la loro indole capiamo il loro anche il loro background se vogliamo ok perfetto e quindi adesso i convinti della colpevolezza non sono più 11 ma sono solamente 10 2 invece non sono convinti che sia colpevole il nostro ragazzo imputato la macchina da presa in questo primo momento in questo primo atto del film molto serrato molto concitato molto ritmato ci sono tanti dialoghi personaggi che presentano loro stessi il capo il giurato numero uno interpretato da Martin Balsam che vorrebbe far rispettare l'ordine che vorrebbe far rispettare un criterio che si preoccupa molto di più della sua situazione di giurato numero uno piuttosto che dell'imputato cerca in qualche modo appunto di dare delle regole alla discussione al dibattito al confronto tra questi 12 giurati bene in questo primo atto se ci avete fatto caso e penso che se me l'abbiate visto tutti più e più volte la macchina da presa costruisce delle geometrie molto ampie ci fa vedere l'ambiente sempre quasi sempre nella sua interezza questa stanza nella quale i 12 giurati cercano il loro posto si siedono eccetera quindi troviamo anche l'uso di obiettivi della macchina da presa che amplificano lo sguardo dello spettatore quindi grand'angolo e quant'altro quindi significa che troviamo sembra davvero che ci sia molta aria in questa stanza dove si deve decidere del destino del nostro protagonista benissimo man mano che invece le certezze crollano man mano che capiamo che le decisioni devono dipendere dalle psicologie di questi giurati perché questa è la democrazia signori miei cioè far sentire ogni persona unica e irrepetibile ma protagonista della vita civile non un semplice automa un semplice diciamo così una maschera che circola e che va via no un protagonista della vita civile e quindi ognuna con il proprio con la propria ricchezza ognuno con il proprio bagaglio personale ognuno con la propria esperienza e col proprio vissuto con la propria fragilità e col proprio bagaglio di indecisioni di dubbi mamma mia che bello questo film quante cose ci fa apprezzare della natura umana questo film ci fa apprezzare le fragilità ci fa apprezzare i ripensamenti che sono il vero cuore della vita umana e della democrazia allora man mano che si passa dal secondo atto e poi al terzo atto quando c'è appunto il confronto finale dove sono praticamente quasi tutti colpevoli quasi tutti convinti della non colpevolezza e quindi mancano solamente gli ultimi tre praticamente ossiduri se cose vogliamo dire uno dei quali è il giurato numero tre Lee Jacob tutti quanti ce lo ricordiamo persino in Italia è venuto a recitare Lee Jacob nel giorno della civetta ve lo ricordate quando dice a Franco Nero com'era la battuta nel giorno della civetta di Amiano Domiani che capodavoro nella vita esistono io gli uomini li divido in cinque categorie ci sono gli uomini com'era mannaggia non me la ricordo gli uomini gli uomini gli uomini i uomini i uomini i ruffiani mi perdoni i ruffiani i mezzuomini e poi da ultimo come se non ci fossero i quacquaraquà bellissimo la battuta benissimo ecco Lee Jacob interpreta il giurato numero tre cioè colui che si ostina fino alla fine ad ammettere ad essere sicuro a rivendicare la colpevolezza del nostro imputato anche quando anche quando il giurato numero quattro mi sembra sì quello con gli occhiali no cambia idea persino lui l'uomo per bene tutto compito tutto preciso che è sicuro di sé c'è testimone la testimone lo ha visto ma poi capisce che forse non portava gli occhiali in quel momento e vabbè allora anche lui cambia idea mamma mia che bella quella scena ok ovviamente tutto funziona in modo perfetto il giurato che cambia idea sul dettaglio degli occhiali è colui che porta gli occhiali e vabbè signori miei è così che funziona il cinema è così che funziona così che funzionano le sceneggiature oliate che vogliono dare anche dei significati più profondi a quello che noi vediamo benissimo quindi man mano dicevo che la storia va avanti man mano che passiamo al secondo atto e poi al terzo atto dove tutte le certezze dei vari giurati si sgretolano notiamo che i primi piani aumentano notiamo che la macchina da presa è più vicina ai personaggi notiamo che i loro tic ci sono ormai nonostante il film duri solo 96 minuti ci sono ormai familiari cioè abbiamo capito come sono abbiamo capito come la pensano abbiamo capito che il loro che tipo di carattere hanno e quindi abbiamo capito tante cose e quindi siamo diventati intimi di questi 12 esseri umani che si devono confrontare sulla più grande responsabilità che in una democrazia un uomo possa avere un cittadino possa avere cioè capire se un altro cittadino merita la più grave delle pene oppure no perché di questo si discute il giudice l'ha detto all'inizio se verrà considerato colpevole c'è la pena di morte non si scappa non ci sono attenuanti non ci sono non ci sono alternative oppure non colpevole il processo si rifà non è che il colpevole viene prosciolto non colpevole infatti il doppio cittadino non è secondo me il massimo perché la dicitura è non colpevole non innocente è non colpevole cioè mai una litote è così importante come in questo caso cioè dire che non è che è non colpevole non significa dire che è innocente significa che non ci sono elementi oggettivi che ci fanno capire che è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio significa che sussiste un dubbio dubbio vuol dire che abbiamo un bivio e la democrazia è un bivio ragazzi miei la democrazia è un bivio signori miei bisogna scegliere una strada o un'altra non vuol dire che abbiamo delle certezze vuol dire che c'è un dubbio e quindi occorre scavare di più bisogna cambiare avvocato bisogna portare più prove ci sono delle criticità che non sono state considerate e che adesso invece questi dodici esseri umani ragionando nell'arco di una notte praticamente riescono a far emergere c'è questa pioggia che meraviglia è biblica una pioggia biblica in un film così realistico così naturalistico con una regia così asciutta troviamo questa pioggia che ha un chiedi biblico che scende dal cielo quasi per purificare i nostri peccati quali sono questi peccati? i peccati di cittadini non di esseri umani cioè di aver trattato una cosa importante come un processo con estrema superficialità e di aver rischiato quindi di mandare a morte forse un innocente o semplicemente di non aver considerato l'ipotesi di rifare il processo perché qualcosa non torna in quanto c'è un ragionevole dubbio benissimo e mi interessava poi sottolineare in chiusura di questa piccolissima riflessione sulla parola giurati proprio la parabola del nostro Lee Jacob il giurato numero 3 perché è una parabola interessantissima molto organica al cinema degli anni 50 perché ha a che fare con la psicologia di questo padre perché Lee Jacob scopriamo essere un padre che però non si vede col figlio da due anni c'è una fotografia che ostenta con orgoglio con finto orgoglio perché in realtà ci sono dei nervi scoperti delle ferite non rimarginate con il figlio c'è qualcosa che non è andato e la colpa è solo del figlio i giovani devono pagare i vecchi hanno sempre ragione perché i vecchi devono essere chiamati signore lui chiamava il padre io chiamavo mio padre signore dice a un certo punto Lee Jacob ve lo ricordate sicuramente con la cena meravigliosa ok adesso invece questi giovani di oggi e quindi lui vuole fare in realtà una sorta di azione quasi freudiana vuole punire questo imputato in realtà vorrebbe punire suo figlio per a suo modo di vedere avergli mancato di rispetto e di conseguenza il suo processo è quello che incanta di più è quello che affascina di più più del nostro ipocrita giurato numero 7 più del giurato che vuole andare che vuole andare alla partita di baseball insomma quello che davvero abbiamo come giurato il giurato che vuole andare alla partita di baseball no il giurato che è ipocrita è Ed Bigley il giurato numero numero 10 ecco più di questi il giurato numero il giurato numero 6 è Gus Barnes ok e Jack Warden invece è l'uomo tutto tutto un pezzo no il giurato numero 7 si è l'uomo tutto tutto un pezzo che in realtà agisce in modo come si dice oddio pieno di pregiudizi è pieno di pregiudizi e alla fine viene isolato e lui mi sembra che il giurato se non mi ricordo bene i numeri perdonatemi signori perché non lo ripeto da un po' il film è lui il giurato che viene isolato dagli altri quando scopre di essere troppo legato al pregiudizio che non ragiona in base a una riflessione ragiona in base a un dogma e quindi gli altri quasi si voltano dall'altra parte lo isolano in un certo qual modo e quindi viene costretto dai suoi stessi limiti a dichiarare la non colpevolezza del nostro imputato però la parabola che mi interessa di più è quella proprio di Lee Jacob perché riflette su questo imputato sconosciuto a lui i demoni le nevrosi le patologie le increspature che non sono andate bene col figlio cioè è come se riflettesse la sua esperienza autobiografica su questo sconosciuto e quindi vuole vendicarsi su di lui non potendo vendicarsi del figlio e quando capisce questa cosa esplode in un pianto ve lo ricordate e urla innocente innocente strappando la fotografia che rappresentava una menzogna quella fotografia perché c'era l'abbraccio in quella fotografia e quindi magari avrà la forza dopo aver portato a galla questo demon interiore dopo averlo magari fatto suo e dopo averlo elaborato questo trauma delitigio col figlio magari avrà la forza non lo sapremo mai perché il film è termina magari però avrà la forza di ricucire quel rapporto di ammettere le proprie colpe le proprie responsabilità benissimo quindi davvero se noi guardiamo il film notiamo come tutti e dodici i giurati conoscono un processo di maturazione dal dialogo dal dibattito dal confronto dall'incontro e dallo scontro di opinioni conoscono in realtà un'evoluzione una trasformazione un miglioramento un cambiamento ed è questa poi la cosa meravigliosa della democrazia perché è vero che i cittadini si devono confrontare e devono dialogare per decidere qualcosa ma mentre lo fanno riescono anche a lavorare su se stessi e non solamente a lavorare per il bene dello Stato per fare una cosa giusta per fare una cosa sensata ma riescono a migliorare anche come esseri umani quindi la democrazia permette all'essere umano di essere un migliore essere umano la mia recensione finisce qui mettete mi piace a questa recensione se vi è piaciuto mettete anche se non vi è piaciuto ricordate di iscrivervi al canale di attivare la campanella delle notifiche e soprattutto non dimenticate la cosa più importante che vi direbbe anche a Rifonda e cioè pedinati